Ecco Michele, possiamo cominciare? Grazie mille. Vediamo un attimo. Questo? Prova forse adesso Michele. Mi sentite? Sì, insomma. Perché esce solo dal computer l'audio. No, ma non è un problema tuo, è un problema qui. C'è anche il meno. Va bene? Eh, va bene. Che facciamo? Niente. Va bene? Proseguiamo così. Sì perché. E' un problema. Anche questo. Professore? Ecco. No. E allora è questo. È questo qui? Sì. niente bisogna ascoltare vogliamo mettere qui vicino proviamo così ecco questo è massimo professore provi ora ecco mi sentite un po' meglio ora si? possiamo cominciare? si Roberta comincio? si professore allora dicevo volevo anzitutto ringraziare l'amico Massimo Luciani che ha accettato il nostro invito per intervenire nel ciclo di seminari che abbiamo dedicato alla storia dell'Italia con particolare riferimento all'età repubblicana il tema di cui parlerà questa sera è uno dei più importanti e significativi e sicuramente genererà una discussione fra i nostri borsisti i nostri allievi e comunque gli amici che hanno accolto il nostro invito a essere presenti a questo importante seminario sono veramente grato e lo ridico nuovamente a Massimo Luciani di essere qui con noi questo pomeriggio è una cosa che ci fa piacere e ci onora e gli do volentieri la parola per sviluppare la prima parte del seminario ci sarà appunto un suo intervento quindi una discussione alla quale potrà se vorrà replicare a te Massimo la parola grazie grazie Michele grazie all'istituto per l'invito non è la prima volta che mi viene fatto l'onore di chiamarmi a discutere con i borsisti e con i colleghi dell'istituto e sempre molto volentieri vengo a confrontarmi con voi io a dir la verità ho scritto una cosa non ne avevo l'intenzione perché inizialmente avevo semplicemente fatto si buttato giù una scaletta di cose ma alla fine riflettendo ho preferito è venuto quasi insomma spontaneo scrivere e ho scritto troppo e quindi e quindi nella ora diciamo che mi è stato detto a mia disposizione non potrò probabilmente dire tutto quello che ho buttato su carta e anche perché mi fa particolarmente piacere in queste occasioni confrontarmi con i borsisti e già precedente opportunità è stato quello credo il momento più interessante quindi insomma vengo subito al al dunque e per evitare sforamenti faccio uso della tecnologia e attivo anche un cronometro incredibile davvero immagino che voi possiate soltanto come dire comprendere e perdonare il mio imbarazzo perché mi si chiede di parlare niente meno che di crisi e trasformazione dello Stato figuratevi un po' ora la crisi dello Stato è è crisi della modernità perché della modernità lo Stato è chiaramente il più maturo frutto politico però non è una cosa di oggi perché questo è un topos del pensiero giuridico e politico da oltre cento anni partiamo dallo scritto probabilmente più rappresentativo di questa riflessione sulla crisi dello Stato siamo all'inizio del novecento la prolusione pisana di Santi Romano che poi viene pubblicata con il titolo lo Stato moderno e la sua crisi come sapete la prolusione pisana di Santi Romano aveva fatto di questa crisi il proprio centro Santi Romano ravvisava una crisi dello Stato cito testualmente caratterizzata dalla convergenza di questi due fenomeni l'uno dei quali aggrava necessariamente l'altro il progressivo organizzarsi sulla base di particolari interessi della società che va sempre più perdendo il suo carattere atomistico e la deficienza dei mezzi giuridici e istituzionali che la società medesima possiede per far rispecchiare e valere la sua struttura in seno a quella dello Stato queste sono le valore di Santi Romano ora veniva subito al pettine il nodo del nuovo pluralismo novecentesco è un pluralismo che è visibilmente diverso dal pluralismo premoderno ma un pluralismo che agli occhi di Santi Romano e non solo ai suoi appariva altrettanto incompatibile con che cosa? Con quel potere politico centralizzato che era riuscito a ottenere una generale osservanza in quanto era stato capace di porre fine all'anarchia e ai massacri delle guerre civili ergendosi a neutralizzatore della contesa religiosa il principio cui eius regio eius et religio questo potere che come ricordate grosso modo nello stesso torno di tempo lo spiegava Max Weber e diveniva monopolista dell'uso della forza legittima ora l'avvento di nuovi corpi intermedi ma nuovi corpi intermedi non qualsiasi nuovi corpi intermedi pesanti come partiti e sindacati corpi intermedi che elevavano la pretesa di intromettersi nel processo decisionale pubblico sembrava rimettere in discussione il monopolio che era stato faticosamente conquistato da questo nuovo soggetto della storia e dunque ovviamente faceva scandalo il pensiero di Romano si articolava quindi a ben vedere in una pars destruens nella quale criticamente si constatava la rottura della pura statualità attenzione non della statualità ma della pura statualità e in una pars construens nella quale si elaborava la dottrina della pluralità degli ordinamenti giuridici ora sulla dottrina della pluralità degli ordinamenti giuridici sono possibili varie letture di questa dottrina a partire da quella molto benevola a mio parere dell'amico scomparso Paolo Grossi ma io non penso che quella ricostruzione di Santi Romano intendesse valorizzare il pluralismo di base questa era la tesi di Grossi ma intendeva fare un'altra cosa cioè assorbire nell'organizzazione dello Stato il pluralismo di vertice e cioè proprio partiti e sindacati ovviamente non è soltanto Santi Romano che fa questo passo perché tutti i primi tre o quattro decenni del novecento sono costellati da più o meno analoghi tentativi di assorbimento proprio questo è il punto l'assorbimento ma in questa direzione per esempio la smendiana integrazione perché per smend cito il primo compito dello Statsrecht è l'integrazione della totalità statale e l'integrazione politica è cito il nucleo e il senso proprio della Costituzione tanto che lo Stato in definitiva non è altro che lo stesso processo di integrazione che gli consente di costituirsi come Stato in questo stesso senso va anche la mortatiana teoria della Costituzione in senso materiale in questa stessa direzione già in precedenza si erano affermate concezioni sostanzialistiche della Costituzione Friedrich Wieser in particolare aveva sostenuto che non leggo in tedesco perché sempre ha una potenza expressiva im letzten Grunde ist die gesellschaftliche Verfassung ebenso der gegebenen Zustand der Kräfte und Mächte wie die Geistesverfassung eines Menschen der Zustand ist in welchem sich seine geistigen Kräfte befinden in definitiva la Costituzione della società è la condizione data delle forze e dei poteri così come la Costituzione spirituale di un uomo è la condizione nella quale si trovano le sue forze spirituali è un primo schizzo diciamo di teoria sostanzialistica della Costituzione siamo nel 26 ma è in mortati che queste concezioni sostanzialistiche giungono a un punto di elaborazione giuridicamente significativa per mortati appunto la funzione prima che va assolta nell'ordinamento dello Stato quello che dico adesso è costellato di citazioni testuali di mortati ebbene questa funzione prima è quella di porre il criterio supremo in base al quale sia possibile di circoscrivere l'ambito di efficacia dell'ordinamento e così di determinare la rilevanza per lo Stato dei rapporti sociali di operare l'imputazione allo Stato dei medesi questo è importante nell'ottica dell'assorbimento questa funzione prima in capo a chi sta sta in capo ai partiti che sono portatori di un'idea politica generale che peraltro si realizza pienamente solo quando il partito è unico e mortati scrive la Costituzione in senso materiale nel 1940 e dunque quando il partito è interamente assorbito nella sfera della statualità in quanto esercita non arriverà proprio a funzione pubblica anzi la funzione pubblica per eccellenza si può avere anche la fusione rovesciata cioè che è lo Stato che è assorbito nel partito ma non è propriamente così in questa stessa direzione va anche la Vierfache Stufenfolge dei partiti che è stata proposta da Heinrich Trippel nella sua nota rede berlinese del 1927 siamo sempre in quegli anni come vedete e sapete questa quadripartizione tripeliana dell'atteggiamento dello Stato nei confronti dei partiti sono quattro fasi di questo atteggiamento Beckenfung cioè proprio la lotta contro i partiti la Anerkennung il semplice riconoscimento la Legalisierung che non ha bisogno di traduzione e la Incorporation che ha bisogno di traduzione ancora meno in quest'ultima fase e dico quest'ultima fase si presenta come l'esito quasi obbligato e fatale del processo evolutivo del rapporto fra partito e Stato ora è evidente che ci sono esiti autoritari di questa sistematica non fosse altro perché lo stesso tripel riconosce che una piera incorporazione può realizzarsi solo anche qui una volta di più nei sistemi a partito unico siamo nel 27 siamo in Germania ma l'Italia è conosciuta ecco l'Italia degli anni 20 è conosciuta il fascismo è conosciuta e quindi questa incorporazione si ha quando lo Stato si fa partito il partito si fa Stato il che sarebbe invece rechtlich undenkbar dice tripel cioè proprio giuridicamente impensabile in un regime parlamentare in questa direzione vanno poi tutte le ricostruzioni dichiaratamente autoritarie attenzione non è che quella di Mortati non lo fosse per me è molto autoritaria ma ne sono state date letture diciamo benevole vero e ricostruzioni autoritarie che vengono faticosamente elaborate in Italia durante il fascismo e qui abbiamo che conosce molto bene queste esperienze per le quali del resto l'incorporazione del partito nello Stato è proprio una realtà di fatto certo l'incorporazione vi rendete conto può essere di vario genere e gradazione e o già conoscete o comunque vi immaginate che la dottrina in quel periodo elaborò varie articolazioni di questa incorporazione Zangara per esempio riteneva che né il partito nazionale fascista in Italia né il partito nazionale socialista in Germania siano organi dello Stato ma se in Germania il partito comanda allo Stato in Italia accade che lo Stato riconosce nel partito la fonte del suo pensiero e che a sua volta il partito riconosce e sostiene la sovranità dello Stato molto diverso si segna così una profonda diversità dalla prospettiva aperta in Germania dalla realtà delle cose ovviamente ma soprattutto dal punto di vista teorico dallo scritto di Schmitt Stato Bewegung Volk Stato Movimento Popolo il quale non solo aveva proclamato l'abbandono da parte del nazionalsocialismo dell'idea di una coincidenza fra statualità e politicità ma aveva anche drasticamente svalutato la dimensione propriamente giuridico costituzionale dello Stato che vedeva animato da una forza propulsiva il movimento che a lui almeno inizialmente era estranea Das gesamte öffentliche recht des heutigen deutschen staates steht heute auf eigenem boden intero diritto pubblico dell'odierno Stato tedesco riposa oggi su un fondamento proprio e peculiare scusate ho tradotto con due aggettivi perché eigen non riesce a farsi tradurre come aggettivo solo va in questa direzione l'ancora più dichiaratamente autoritaria prospettiva del corporativismo di Sergio Panunzio il quale aveva attivato quello che Carlo Levi causticamente aveva chiamato il filtro capovolgitore della sua mente astrattizzante molto bello questo è un commento di Levi sulla sulla rivista di Gobetti la rivoluzione liberale e cosa faceva Panunzio cosa fa Panunzio pretende che i sindacati si avviano a farsi Stato i sindacati e non i partiti per scongiurare la prospettiva solediana che essi si ergano contro lo Stato la teoria dello Stato fascista per Panunzio cito poggia su tre punti i sindacati le corporazioni il partito e dunque essa per investire tutto lo Stato fascista abbraccia tre distinte teorie la teoria generale del sindacato la teoria generale della corporazione la teoria generale del partito salto altri minimi approfondimenti della posizione di Panunzio gradazioni diverse dell'autoritarismo dunque come vedete dalla rapidissima sintesi che ho fatto sono disponibili e sono disponibili in quel periodo un lungo periodo insomma tra metà degli anni venti gli anni quaranta anche diverse prospettazioni del rapporto fra diritto e Stato segnate da non poche ambiguità e oscillazioni ora non è certo casuale la stratta possibilità di una lettura diciamo così democratica di Santi Romano e anche del Mortati degli anni trenta e quaranta e non lo è certo casuale il fatto che non pochi giuristi italiani attivi durante il ventennio abbiano cercato di rimarcare la profonda diversità tra l'esperienza italiana e quella tedesca e anche qui salto ma insomma è noto che in Italia si cerca di conservare a tutti i costi l'idea che l'Italia sia ancora uno stato di diritto mentre invece in Germania l'idea dello stato di diritto viene rinnegata assolutamente ora questa posizione è imputabile indubbiamente alla matrice culturale liberale di alcuni di quei giuristi attenzione alcuni di quei giuristi mica tutti ma anche ad una cosa che per noi oggi è più importante alla loro consapevolezza che la statualità sotto attacco a causa dell'avvento di nuovi competitors appunto partiti e sindacati sarebbe stata meglio difesa dalle dottrine che conservavano intatta l'idea di sovranità nei suoi tradizionali termini gius pubblicistici anziché da quelle che la mettevano in crisi teorizzando che cosa? teorizzando un doppio stato cioè uno stato amministrazione quello classico da una parte e uno stato tutto politico dall'altra quale stato tutto politico? cioè lo stato animato dal partito sostanzialmente ovvero nelle ispirazioni corporative dal sindacato una posizione teorica che non di meno ha trovato una effettuale corrispondenza forse anzi certamente solo apparente e formale nelle scelte istituzionali come ha osservato giustamente Bernardo Sordi in un saggio apparso in lingua francese in Italia l'etat totalitaire se veut de façon constante de forme juridique ed esattamente così penso mentre le forme giuridiche sono rifiutate come inutile orpello in Germania invece da noi sono portate ad esempio del mantenimento della natura di stato di diritto di un ordinamento che pure era diventato totalitario ora la risposta autoritaria logorata dalla guerra guerreggiata e dalla guerra fredda poi ha fallito in tutte le sue forme mentre invece ha avuto successo quella pluralista non più un assorbimento di partiti e sindacati per formale incorporazione vero tale da sottrarli alla sfera della libertà che è loro propria ma un assorbimento che potremmo chiamare di sostanziale infiltrazione nel senso che gli uni e gli altri invece di essere temuti quali elementi disgregatori partito sindacato sono stati paradossalmente assunti come strumenti invece di contrasto della disarticolazione sociale determinata dal pluralismo di base un contrasto assicurato come attraverso il loro inserimento nei complessi meccanismi di costruzione dell'opinione pubblica del consenso sociale e del processo decisionale politico cioè partiti e sindacati visti anzi prima come elementi disgregatori della statualità vengono reinterpretati nella prospettiva pluralista invece come meccanismi di integrazione di un pluralismo altrimenti eccessivamente diffuso ora è chiaro che soprattutto i partiti si sono caricati del compito di trasmettere le domande sociali alla sfera delle istituzioni e del compito inverso di far accettare le decisioni delle istituzioni e la base sociale insomma sono stati la testa di ponte della società civile della società politica se vogliamo accettare questa distinzione e del resto diciamo già a Weimar questo era stato in qualche modo teorizzato salto ovviamente la costruzione pluralistica avviata a Weimar e diffusasi nel secondo dopoguerra non era imperniata a caso o per capriccio sui partiti ma per una necessità logica e storica una volta dimostratasi una volta dimostratasi impraticabile la via inizialmente prospettata nei sistemi petro-liberali del divieto dei partiti era impraticabile non ci si riusciva a mantenere quel divieto una volta sconfitta quella autoritaria della formale incorporazione nelle strutture dello Stato non restava che un'altra strada quella del riconoscimento dell'essenzialità del ruolo dei partiti e sindacati soprattutto dei partiti nella tessitura pluralistica del sistema sociale e del sistema politico alla quale lo Stato aveva dovuto bon gré mal gré adattarsi essenzialità condizionante addirittura perché nella forma di governo democratica mista plebiscitario rappresentativa che ha caratterizzato il secondo novecento la frase è ripresa da Ernst Frenkel le stesse elezioni hanno assunto un carattere tendenzialmente plebiscitario in quanto sono ormai meccanismi di massivo conferimento di consenso ai partiti e alle loro ideologie massivo nel senso che ci sono tante persone ma sempre di meno perché il turn out elettorale si abbassa drasticamente la fondamentale presenza dei partiti di massa ha dunque riconfigurato lo stesso atto costitutivo della rappresentanza convertendolo cioè ha modificato le elezioni il significato delle elezioni convertendolo in un momento anche di investitura essenzialmente identitaria nuova statualità novecentesca e partiti in definitiva si sono legate a doppio filo era dunque prevedibile quello di cui stiamo parlando oggi e cioè che un'eventuale crisi dei partiti avrebbe comportato una crisi dello Stato e la crisi dei partiti alla fine è arrivata e con essa è arrivata la crisi dello Stato ma alla radice di quella che oggi chiamiamo crisi dello Stato ci sono anche ovviamente altri fattori non soltanto la crisi dei partiti vediamoli ora partiamo dalla promessa di pace a cui lo Stato si era impegnato allora lo Stato questa promessa di pace cioè di pace rispetto ai massacri delle guerre civili e religiose questa promessa di pace è sempre stata onorata in modo soltanto parziale salva l'eccezionalità dei rivolgimenti rivoluzionari l'unificazione del potere politico e militare assicurava la pace interna vero? questo è poco ma sicuro ma quasi fatalmente alimentava la bellicosità esterna un potere delimitato territorialmente non poteva non aspirare a dilatare il più possibile il proprio limite la casta militare doveva in qualche modo giustificare la propria esistenza gli interessi economici dei produttori nazionali specie in un sistema mercantilistico spingevano per l'ampliamento della base territoriale del mercato interno e anche per l'espansione coloniale il timore delle aggressioni esterne faceva il resto quindi l'erogazione della prestazione sicurezza fisica che aveva politicamente ideologicamente giustificato l'avvento dello stato moderno era assicurata come vedete soltanto a metà era assicurata dentro ma fuori si moriva lo stesso sui campi di battaglia però bisogna ragionare bene su questo perché questo fallimento sostanziale della prestazione di sicurezza fisica è stato accompagnato da un successo procedurale nel senso che i rapporti interstatali sono stati retti per secoli dai chiari principi di quello ius publicum europeum che al di là delle strumentali idealizzazioni schmittiane hanno consentito almeno la giuridicizzazione del conflitto e ostacolato anche se non sempre impedito ovviamente la sovrapposizione delle valutazioni etiche alle considerazioni freddamente utilitaristiche ora questo a chi dell'esperienza politica occidentale che poi si è steso in maggiore o minore misura a tutto il pianeta è stato messo in discussione dai profondi rivolgimenti geopolitici avviatesi già durante il secondo conflitto mondiale nel pieno del corso del conflitto siamo nel 1942 Carl Schmitt propone una lettura della storia del mondo come lotta von Seemächten gegen Landmächt di potenze marine contro potenze terrestri Leviathan contro Behemoth che metteva in discussione la stessa tenuta originaria del modello europeo e l'esito del conflitto mondiale avrebbe chiarito bene e poi Schmitt l'avrebbe lucidamente registrato un po' dopo all'inizio degli anni 50 nel Nomos der Erde nel Nomos della Terra che quella stessa lettura doveva considerarsi obsoleta cioè lo scontro fa potenze marine e potenze terrestri ma per una ragione tecnologica e militare perché ormai contava il dominio dell'aria diciamo è gloria italiana gloria forse discutibile quella di aver compreso che il dominio dell'aria era assolutamente essenziale all'inizio del Novecento Giulio II l'ufficiale dell'Aeronauti lo chiarisce e ancora oggi si studia II nelle accademie militari e e poi la logica del sistema tradizionale delle relazioni internazionali viene attaccata dalla risumazione della dottrina della guerra giusta variamente articolata sì quanto allo ius ad bellum allo ius in bello e allo ius post bellum che è l'elemento più delicato e quello sul quale maggiormente si spendono soprattutto i teorici statunitensi della guerra giusta poc'osa i tentativi di giustificare teoreticamente le guerre umanitarie si sono ora moltiplicati e si fondano su una concezione dei rapporti internazionali scopertamente strumentali agli interessi dei nuovi grandi imperi mondiali anzi soprattutto di uno di questi imperi mondiali esponendosi nuovamente alle insormontabili obiezioni sempre di Schmitt preziosa fonte di ispirazione ancorché da prendere con le molle ovviamente perché ho già accennato la strumentalità di alcune sue ricostruzioni tali guerre scrive Schmitt sono necessariamente particolarmente intensive e disumane poiché superando il politico squalificano il nemico anche sotto il profilo morale come sotto tutti gli altri profili e lo trasformano in mostro disumano che non può essere solo sconfitto ma deve essere definitivamente distrutto ciò non deve essere cioè scusate non deve essere più soltanto un nemico da ricacciare nei suoi confini deve essere annientato annichilito di qui poi anche i processi dopo la fine della guerra il primo che ho trovato insomma ho fatto qualche ricerca il primo che ho trovato è stato quello ai collaboratori della regina Zenobia dopo che Roma aveva ripreso possesso del regno di Palmira è il primo processo che io personalmente ho trovato di carattere politico dopo una sconfitta militare ma sappiamo che l'antecedente immediato dei processi in Orimberga e di Tokyo è stato il processo a Guglielmo II dopo la prima guerra mondiale ora è evidente che in questo modo non si compromette solo l'originario modello europeo di regolazione dei rapporti internazionali ma si compromette la stessa integrità della tradizionale immagine dello Stato non solo perché si legittima l'interferenza di terzi negli affari interni dei singoli Stati ma anche perché a questa interferenza si pretende di conferire la legittimazione a far uso della Forza Armata vi rendete conto che qui che stiamo parlando di crisi dello Stato stiamo toccando il cuore della Stato Unita non basta il processo di ridefinizione dei rapporti internazionali non è l'unica questione perché c'è un altro profilo per il quale si registra questa spinta per la crisi della statualità ed è quello delle relazioni economico-sociali ora solo nel novecento dopo le anticipazioni bismarchiane del secolo precedente fa la sua apparizione lo Stato del benessere chiamiamolo welfare state welfare state quello che volete curatore della vita dei consociati from cradle to grave è l'idea del piano da sempre se questo è accaduto solo nel novecento da sempre lo Stato però non ha potuto fare a meno di presentarsi come erogatore di prestazioni in favore dei propri cittadini anche lo Stato diciamo meno apparentemente amichevole lo stesso monopolio della sovranità interna lo costringeva a garantirne come abbiamo detto prima almeno la sicurezza fisica e per quanto sul piano storico sia stato faticoso e accidentato questo passo il passo appunto dalla tutela dell'integrità e libertà fisica alla tutela dell'integrità e libertà morale e sociale era pienamente logico lo Stato liberale era nato dalla lotta contro il privilegio e di conseguenza la libertà di ciascuno doveva essere garantita come libertà di tutti così operandosi una strettissima connessione fra il principio di libertà e il principio di eguaglianza ovviamente sul piano storico c'è una contraddizione ineliminabile ma sul piano logico siamo perfettamente in linea ed è la ripresa sostanzialmente dell'antica affermazione ciceroniana libertas equa non est libertas che non sia equa né libertas quidem est deve essere una libertà uguale anzi equa equanime il passo però era storicamente contrastato e dunque difficile perché potenti forze sociali si opponevano a che si facesse dello Stato qualcosa di più del Nachtwächter del guardiano notturno funzionale agli interessi della borghesia transitare dallo Stato liberale allo Stato sociale significava perdere l'essenzialità diciamo il nitore delle strutture del potere pubblico la sobrietà nell'esercizio della funzione legislativa la solo apparente neutralità del suo comando del comando del legislatore rinunciando alla fondamentale premessa della separazione fra lo Stato e la società civile in ogni caso difficile non difficile sul piano storico logico o non logico insomma quel passo è stato fatto e nell'esperienza della statualità a noi più prossima cioè in quella novecentesca la cura delle prestazioni sociali ha costituito una preoccupazione primaria dello Stato liberal democratico nella sua declinazione europeo-continentale e anche seppure a fasi alterne con evidenti limitazioni in quella anglosassone piano beverage del resto è frutto di cultura anglosassone la globalizzazione ha messo in discussione questa realtà sociale e ordinamentale di uno Stato carico di compiti sociali e dunque bisognoso di dominare la sfera economica e non di esserne dominato e qui veniamo appunto al secondo fattore di crisi la globalizzazione l'ha modificata nel profondo e la cattura politica dell'economico si è rovesciata nella cattura economica del politico così contraddicendo fra l'altro la stessa aspirazione originaria del costituzionalismo perché l'aspirazione del costituzionalismo è quella di contenere e limitare il potere in tutte le sue forme consentitemi un piccolo inciso peraltro io sostengo da sempre che questa è l'aspirazione ma il compito del costituzionalismo è stato prima quello di fondare un potere legittimo e poi di limitarlo e contenerlo cioè viene prima la fondazione del potere legittimo viene logicamente e storicamente prima perché se non consideriamo questo forse dimentichiamo il rapporto tra costituzionalismo e potere e ci acquietiamo in un'idea del costituzionalismo come rosea difesa dei diritti ma non è soltanto questo il costituzionalismo la dissoluzione del legame fra economia e territorio ha portato con sé sia l'apertura di vasti spazi di sottrazione dell'economico al politico sia lo sviluppo impetuoso di istituzioni internazionali e sovranazionali di regolazione talora queste istituzioni sono politiche G7 no G12 talora sono tecnocratiche WTO Fondo Monetario Internazionale Banca Mondiale Banca Internazionale degli Investimenti sono fondate su una logica molto diversa da quella democratico-rappresentativa che ha caratterizzato la statualità novecentesca queste istituzioni e tutto questo complesso questa rete di poteri e istituzioni taluno ha parlato di questi luoghi istituzionali e delle grandi imprese transnazionali come di un nuovo sovrano ma ecco io personalmente da anni preferisco definire diversamente questo diciamo magmatico complesso di poteri perché per me è un vero e proprio antisovrano qui è anche interessante fare un rapporto tra sovrano e antisovrano e il Cristo e la dottrina del rapporto tra il Cristo e l'anticristo esattamente come l'anticristo un antisovrano che è retto da una logica in tutto opposta a quella che era stata propria dell'idea di sovrano consegnataci dalla modernità perché è opposta se pensiamo perché parlo di antisovrano perché il sovrano è uno l'antisovrano è plurimo il sovrano si presenta come pienamente politico l'antisovrano anche quando si articola in istituzioni politiche come quelle che abbiamo visto si presenta come portatore di leggi generali pretesamente oggettive dell'economia e del commercio sono leggi che hanno una oggettività indiscutibile non sono il frutto della volontà del sovrano il sovrano pretende di avere una legittimazione trascendente che sia la volontà di Dio o la volontà popolare che sostituisce il Dio caduto dei cieli l'antisovrano si accontenta di una legittimazione immanente e anzi la rivendica una legittimazione che gli offerta dagli interessi dell'economia del commercio e dello sviluppo il sovrano si vuole soggetto politicamente unificatore di un gruppo sociale che però già in partenza ha una qualche omogeneità non possiamo pensare un sovrano senza che questo gruppo non abbia un minimo di omogeneità linguistica storica valoriale l'antisovrano si vuole interprete se non si vuole interprete diciamo se non organizzatore degli interessi di tutti i gruppi sociali del pianeta non è un unificatore è un interprete il sovrano si vuole assigio su una base politica e dunque tendenzialmente egalitaria l'antisovrano si vuole fondato su una base timocratica e dunque tendenzialmente censitaria la pretesa dell'antisovrano ecco se è chiaro questo chiara questa distinzione tra quello che il sovrano è stato e quello che l'antisovrano è o cerca di essere è chiaro che la pretesa di questo che io chiamo l'antisovrano ha maggiore estensione e minore intenzione di quella del sovrano ha maggiore estensione perché si dilata tutto il pianeta e non si confina a una singola porzione di territorio eppure ha minore intenzione perché si presenta come esercizio di governance e non di autentico governo ora però qui bisogna intendersi perché questa seconda caratteristica cioè presentarsi come esercizio di governance e non di governo rende quella pretesa apparentemente meno pericolosa per la libertà e per l'autodeterminazione dei singoli vero? però è evidente che quella governance è invasiva tanto quanto lo è il governo sebbene comporti l'abdicazione alla pretesa di influire con una decisione pubblica e democraticamente legittimata sulle inadeguatezze e le ingiustizie dei rapporti economici e sociali governance e governo non si distinguono per una minore invadenza nella sfera privata così come il soft law non si distingue per una maggiore come dire amichevolezza nei confronti della della libertà privata rispetto alla legge dura chiunque di voi abbia una formazione giuridica o abbia avuto modo di occuparsi di questioni di diritto sa che l'ideologia del soft law è del diritto morbido elastico cioè del diritto che non parte con l'idea immediata della sanzione è un'ideologia che poi alla prova dei fatti si rivela fallace perché quel soft law è molto più pesante o perlomeno altrettanto pesante del diritto hard ora una volta di più però la le ragioni della crisi dello Stato sono 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 plurime per l'appunto abbiamo visto c'è una ragione che potremmo dire più 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 propriamente interna politica insomma politico-partitica c'è una ragione che potremmo definire geopolitica o economica ma c'è qualcosa di più ancora e ancora una volta schmidt coglie un punto no cioè coglie sempre negli anni 20 la possibilità della riduzione dell'umanità cito a una condizione assolutamente impolitica nel nome dei fini utopistici del pensiero tecnico-economico questo scriveva negli anni 20 schmidt ora faceva riferimento alla alla tecnica ma alla tecnica del pensiero economico noi oggi abbiamo di fronte un altro problema allora schmidt poneva l'accento sulla spoliticizzazione derivante dall'autorappresenzazione della scienza economica come un complesso di prescrizioni sostanzialmente tecniche dotate di una ferrea oggettività e sottratte alla piena discrezionalità dell'agire politico cioè era se volete era il portare all'estreme conseguenza dell'idea della invisible hand che viene imputata ad Adam Smith e che non è invece di Adam Smith ma questo diciamo questo potremmo poi discutere più avanti oggi siamo sempre di fronte al rischio della determinazione di una condizione impolitica degli esseri umani ma c'è una differenza perché oggi la pressione della tecnica si è stesa anche a un terreno ulteriore che è quello diciamo così delle scienze dure scienze della natura se volete se vi piace natura ma insomma chiamiamo le scienze dure voi siamo tutti tranquilli non è troppo impegnativo sul piano epistemologico in cui non è più in questione soltanto l'homo economicus o l'homo politicus ma diciamo così è in questione l'homo humanus nel senso che viene adesso posto il problema antropologico dell'identità dell'uomo in quanto uomo e quello biologico della sorte stessa del genus humanum arriveremo subito a capire quanto questo centra con la crisi dello Stato ora da tempo il fenomeno è stato sondato in profondità in questi ultimi anni molto ne hanno detto Emanuele Severino e il nostro ospite Natarino Irti in fitto dialogo fra di loro qui basterà limitarsi a segnalarne le ricadute sul versante della statualità una condizione impolitica dei suoi cittadini non è compatibile con la politicità della natura dello Stato e del suo potere a valle la forma Stato appare superflua a fronte dell'autoregolazione della scienza e della tecnica ma prima ancora a monte una sfera della statualità non risulta nemmeno capace di costituirsi questo è il punto forse più delicato in difetto di identità politica dei consociati e cioè di quei consociati che quella sfera dovrebbero edificare come proiezione dei loro bisogni delle loro esigenze della loro volontà di governo dell'esistente è dall'invadenza della scienza e della tecnica dalla loro capacità di manipolare non più solo il mondo esterno in cui l'uomo vive e agisce ma anche la sua identità interna che viene oggi la sfida più difficile per lo Stato domani all'Accademia dei Lincei abbiamo organizzato un convegno sull'editing genomico cioè sulla manipolazione del genoma umano mettete insieme intelligenza artificiale e manipolazione del genoma umano e vi rendete conto che siamo in un momento delicatissimo di messa in discussione proprio della stessa natura umana ora Stato e diritto hanno gravi difficoltà a governare la tecnica e invece la tecnica avrebbe bisogno di essere governata mi piace citare ho fatto in uno scritto recente ma lo ripeto anche qui quello che scrive José Ortega i Gasset in un libro famoso che è stato conosciuto molto tardi ma in realtà del 1929 che è La Rebellion de las Massas cosa scrive Ortega i Gasset vivimos in un tempo che si sente fabulosamente capace per realizzare però non sape che realizzare molto bello no? se possiamo fare tutto non sappiamo e soprattutto non sappiamo nemmeno perché lo facciamo diciamo e allora qui viene spontaneo chiedersi se non spetti a un'istanza decisionale politica elaborare formalizzandolo giuridicamente il sapere questo sapere che sa cosa fare e che sa fare scusate ma non sa che cosa fare e perché però ci sono due difficoltà una difficoltà teorica raramente intesa ma secondo me particolarmente importante che rende il diritto diciamo inidoneo in certa misura a far fronte a questa sfida l'invenzione e la scoperta hanno un senso in sé e si legittimano per il solo fatto di venire alla luce esse esprimono al massimo un principio di libertà che del resto è riconosciuto a tutte le costituzioni vera democratiche e la regolazione giuridica dell'una e dell'altra lo contraddirebbe non solo il diritto è attribuzione di senso sociale interpretativo dell'interesse della comunità giuridicamente regolata ma a fronte dell'invenzione o della scoperta scientifica questa attribuzione di senso sociale risulta superflua perché l'invenzione e la scoperta c'erano già in sé il loro senso lo reclamano autonomamente di qui la tendenza del diritto a ritrarsi dalla regolazione della ricerca scientifica che non riesce davvero a dominare rispetto alla quale rischia di essere in perenne ritardo noi giuristi regoliamo l'uso della scoperta scientifica ma regoliamo la scoperta scientifica e qui appunto sempre un recente scritto ricordavo un bel passaggio del romanzo dal quale poi sono derivati tutti quanti i racconti i romanzi sui robot e via discorrendo che è Leve Futur de Vie de Lille Adam e racconta di un immaginario Thomas Alva Edison ovviamente calibrato però su Thomas Alva Edison lo chiama sempre Edison che a un certo punto sta lì chiuso nel suo laboratorio e dice ma io qui non insomma perché faccio quello che faccio perché invento qual è il senso di tutto questo mio prometeico agire c'è tutto un dialogo del protagonista con se stesso per cercare di arrivare a risolvere sciogliere questo nodo problematico alla fine però si guarda allo specchio e dice ma che mi importa che mi importa un vent'on un vent'on la risposta è quella che vi dicevo prima cioè la scoperta scientifica si giustifica per il semplice fatto di essere e il diritto a difficoltà essendo appunto strumento di attribuzione di senso sociale ovviamente questo non significa che il diritto sia muto e sia inerte e sia inerte lo Stato la ricerca scientifica può essere incentivata può essere sorretta da interventi pubblici e soprattutto ben può lo Stato regolare l'uso dei risultati come dicevo prima di questa ricerca ma regolare l'uso non è regolare la genesi e una volta che quei risultati sono sul mercato hanno tendenza alla massima espansione un'espansione che Stato e diritto possono contrastare solo con grande difficoltà insomma per dirla con una formuletta il nuovo mondo ipertecnologico non ospita comodamente le venerabili forme della statualità non vi sia soggetta volentieri allora questo dimostra che ci è dato vivere in un'epoca di rischi globali multipli mai sperimentati in passato in questa misura e in questa complessità non si tratta soltanto di misura appunto attenzione di recente un economista famoso come Nurel Rubini ha parlato di mega threats mega rischi mega sfide e ne ha identificati dieci è la complessità che soprattutto conta siamo nel tempo di quello che Adam Toos ha efficacemente chiamato polycrisis che che cos'è la polycrisis se leggete il global risks report del 2023 la polycrisis è a cluster of related global risks with compounding effects such that overall impact exceeds the sum of each part quindi è un complesso un cluster è un insieme lo è se ordinato diciamo altrimenti è un ammasso disordinato di sfide di rischi tali che però la somma di questi rischi eccede il totale di questi rischi scusate eccede la somma dei singoli rischi mettendoli tutti insieme arrivate a 100 la somma arriva a 100 ma una volta che stanno insieme diventano 10.000 lo stesso rapporto sempre il global risk report elenca 35 fattori di rischio non mi chiedete perché 35 probabilmente potrebbero essere 34 40 ma insomma 35 e chiaramente a me sembra che sia un difetto perché per esempio manca proprio il rischio derivante dalla manipolazione del genoma umano ed è interessante però notare una cosa che il difficile maneggio di questa complessità emerge anche dalla diversa percezione che se ne ha nei vari paesi del mondo se leggete i risultati del World Economic Forum 2022 e l'Executive Opinion Survey vedrete 12.000 risposte le risposte non 12.000 risposte le risposte di 12.000 intervistati fra aprile e settembre 2022 in ogni paese e in ogni paese la lista dei primi 5 rischi è nella percezione locale diversa diversa qualche volta non so il riscaldamento globale è al primo posto qualche altra volta è al quinto qualche altra volta non c'è e ogni paese ha la sua percezione ora attenzione qui c'è di nuovo e c'è anche non di nuovo però vero non è che dobbiamo sempre pensare che ciò che stiamo vivendo sia qualche cosa di in audito vero anni 50 negli anni 50 Ernst Bloch operava un tentativo titanico di elaborare il principio speranza contrapponendosi al nichilismo edeggeriano ma sempre negli anni 50 Günther Anders elaborava quello che Pierpaolo Portinaro ha chiamato un antitetico principio di sperazione un vero e proprio principio di sperazione suggerito dalla dolorosa consapevolezza del dislivello prometeico cioè il prometecio e il gefelle tra l'uomo e le sue stesse scoperte creazioni quasi alla fine degli anni 70 si faceva strada all'idea dell'incertezza economica pensate a un economista ottimista come John Kenneth Goldbraith che scrive invece The Age of Uncertainty poco dopo Hans Jonas proclamava i costi ambientali eccessivi dello stato del benessere invitando ad abbandonare le precedenti tentazioni utopiche di progresso e a concentrarsi sulla mera sopravvivenza nella seconda metà degli anni 80 infine Ulrich Beck teorizzava la società del rischio la risico Gesellschaft se è proprio della modernità stessa il tramontare delle sicurezze tradizionali quello che cambia adesso che cos'è? è l'imminenza del pericolo badate bene questa questione dell'imminenza del pericolo è interessante questo è dimostrato dalla catastrofe di Cernobil voi Cernobil non l'avete sperimentata troppo giovani probabilmente ma insomma io l'ho vissuta Cernobil avevamo la sensazione che Cernobil che stava teoricamente lontanissima fosse accanto a casa perché le nostre verdure non le potevamo mangiare perché erano contaminate dai materiali pesanti che arrivavano da lì e quindi è come come diceva come diceva con la solita lucidità sulla scia di Aristotele ma insomma la solita lucidità San Tommaso il male quando in minute de propinqua quando ce l'abbiamo vicino è molto diverso dal mare lontano sono due cose molto distinte abbiamo una percezione molto diversa e quindi come vedete questo rischio e il pericolo da tempo lo abbiamo presente ma cosa c'è di specifico allora nella nostra condizione attuale è lo specifico che si tratta di sovrapporsi di sfide intrecciate se il cambiamento climatico aggrava il fenomeno delle grandi migrazioni e badate ne abbiamo soltanto come dire una vaghissima un vaghissimo accenno ancora questo fenomeno aggrava il problema sociale della convivenza fra i gruppi e comporta il rischio di involuzioni autoritarie a sua volta dei sistemi politici che a loro volta incidono nell'aggravarsi dei principi dei pericoli scusate connessi alle nuove tecnologie una volta che queste nuove tecnologie cadono nelle mani di regimi non democratici e poi e poi e poi possiamo continuare in questa catena di rischi connessi è la complessità sistemica determinata dalla pluralità dei fattori di rischio che fa la differenza ma la fa anche l'avvento per la prima volta nella storia dell'umanità della capacità dell'uomo stesso di alterare la propria essenza determinando mutamenti antropologici mai visti prima la digitalizzazione con l'uso quasi protesico dei meccanismi di comunicazione personale ecco ce l'ho qui l'intelligenza artificiale con la sottomissione subalterna del pensiero umano all'elaborazione macchinale la manipolazione genetica con la prospettiva del possibile potenziamento potenziamento delle capacità umane per creare delle elite dei superuomini ma anche della possibile riduzione di queste capacità per creare masse di sottouomini ubbidienti è uno scenario che è stato prospettato tutto questo apre scenari nuovi e letteralmente inauditi come dicevo prima è a fronte di questi scenari che appare esservi maggior bisogno dello Stato ma è proprio in questo momento così delicato che lo Stato esperisce la propria massima debolezza però dobbiamo dissipare un equivoco crisi non significa fine dello Stato troppo comodo la parabola dello Stato sembra raggiungere il proprio vertice alto nei primi trent'anni del dopoguerra cioè in quei trent glorieuse dei quali disse Jean Fouastier e che proprio grazie trenta gloriosi trent'anni di sviluppo il modello sociale europeo e che proprio grazie alla massiccia presenza dello Stato nei rapporti sociali ed economici segnarono un miglioramento delle condizioni di vita che mai prima era stato sperimentato in quegli anni la politica elevava ancora la propria pretesa di cattura dell'economia sviluppava capacità progettuale si lucupletava della fortissima fonte di legittimazione assicurata dal radicamento sociale dei partiti e non è più così non è più così oggi abbiamo un'economia recalcitrante davanti alle timidissime pretese regolatorie della politica la scala globale dei poteri privati li rende capaci di progettazione più dell'elite politiche burocratiche degli stati il tramonto delle grandi ideologie e l'indebolimento dei partiti hanno comportato un deficit di legittimazione delle istituzioni rappresentative e della politica in generale insomma il programma illuminista di una politica trasformatrice del mondo badate bene la trasformazione del mondo avveniva anzitutto con le costituzioni le costituzioni sono un'idea illuministica di trasformazione del mondo non solo le costituzioni bilancio ma sono le costituzioni che si proiettano al futuro questo programma si rovesce nella realtà di una politica che tutt'al più cerca di conservare quanto è possibile di un ordine sociale scosso e di frenare i cambiamenti naturali tecnologici economici e sociali che stravolgono il nostro contesto di riferimento tutt'al più è il cateco non più di questo arretramento della politica è logicamente arretramento dello Stato allo Stato condizionato dai vincoli internazionali e sovranazionali sfugge il governo del costo del servizio del debito pubblico la libertà di circolazione dei capitali e l'elasticità del regime dei cambi gli sottraggono buona parte degli strumenti di regolazione pubblica della finanza l'incredibile potenza economica delle grandi imprese multinazionali rende la maggior parte degli stati del pianeta succubi e non regolatori della loro scelta vero però che il processo è qui bisogna intendersi per non trovare come dire autoassoluzioni troppo facili il processo che ha condotto a questa situazione è tutt'altro che impolitico e politica è stata ed è la volontà di adeguarvisi passivamente la flessibilizzazione del regime dei cambi la liberalizzazione del mercato dei capitali per esempio non sono stati il frutto di asteroidi caduti sulla terra ma sono il frutto di precise scelte politiche e politica è la volontà di non trovare un compromesso internazionale per esempio adesso sull'uso dell'intelligenza artificiale c'è questo compromesso internazionale che cosa avete visto di recente a novembre l'executive order del presidente Biden rivolto alle abilistrazioni federali e anche statali per la regolazione dell'intelligenza artificiale e adesso il regolamento l'AI Act europeo che è stato definitivamente approvato e che entrerà in vigore a breve parimenti politiche ma non c'è appunto l'idea di una negoziazione internazionale parimenti politica parimenti politica la frequente strategia di presentare alcune scelte propriamente nazionali come imposizioni derivanti dal contesto internazionale o sovranazionale allo scopo di evitare i problemi di consenso e di legittimazione determinati dalle politiche impopolari insomma si può decidere poco ma ancora meno si vuole decidere gli stati non di meno restano i soggetti del diritto internazionale restano i detentori del potere di fare o non fare la guerra restano i gestori delle non indifferenti ricchezze collettive nazionali la morte dello stato non può dunque essere decretata ma se ne dà una condizione menomata e quindi si tratta di capire che cosa fare ora da più parti in varie parti del mondo ma soprattutto in Italia si sollecitano delle risposte che a me sembrano palesemente inadeguate e cioè si cerca di risolvere per via interna il problema dello stato intendendolo soprattutto come problema di legittimazione delle elite politiche e a questo scopo per esempio si cerca di introdurre soluzioni semplificanti come la legittimazione diretta del vertice dell'esecutivo ora nei cinque minuti che ho anzi no non sono sì sono cinque che ho a disposizione non ho intenzione di parlarne più di tanto qui nel testo scritto che poi non so se avrà un futuro se non avrà un futuro ha un presente avrà avuto un passato pazienza e qui cerco di mettere in luce la problematicità dell'idea stessa di rappresentanza perché la rappresentanza politica è una cosa semplice origina dalla rappresentanza giuridica ma tra rappresentanza giuridica e rappresentanza politica c'è una bella differenza e ecco salto però tutta quanta questa parte però vado concludo con qualche osservazione sul nocciolo di insomma di questo rapporto tra rappresentanza statualità ora riprendiamo la la sistematica di Massimo Severo Giannini che distingueva uno stato monoclasse da uno stato pluriclasse non mi è mai tanto piaciuta però insomma è utile stato monoclasse è quello in cui esiste non tanto esiste una sola classe esiste una sola classe egemone che ha sostanzialmente il monopolio della rappresentanza politica lo stato pluriclasse è quello in cui le masse accedono invece alla rappresentanza e bisogna farci i conti ora nello stato pluriclasse cambiano molte cose della rappresentanza nel nuovo contesto una qualche considerazione della volontà del rappresentato è assicurata dalla presenza in Parlamento dei partiti organizzati la cui mediazione riempie di contenuto il mandato rappresentativo che altrimenti è vuoto non ha una pienezza di contenuti il modello della rappresentanza politica novecentesca tiene fino a che si verifica fino a che non si verifica più ancora della crisi dei partiti attenzione perché la crisi dei partiti viene dopo non viene prima si verifica prima un'altra cosa e cioè quella che a me piace definire anzi non mi piace affatto ma la definisco così la crisi del rappresentato crisi del rappresentato che è determinata da vari fattori perdita delle identità collettive e addirittura individuali smarrimento del senso del legame sociale volatilità dei ruoli sociali tutto rende problematica la stessa identificazione del soggetto o dei soggetti da rappresentare perdita delle identità individuali e collettive crisi delle ideologie disintermediazione smarrimento dei partiti politici la vera radice della crisi della rappresentanza scusate la vera la vera radice della crisi della rappresentanza si trova più coté rappresentato che coté rappresentante e qui stanno in massima misura i problemi attuali della rappresentanza politica i problemi della rappresentanza politica si portano appresso i problemi dello Stato questi problemi infatti sono profondamente intrecciati con quelli generali dai quali abbiamo preso le mosse la crisi del rappresentato dipende dal fatto che si sono frammentate le identità individuali si sono appannate le ideologie si sono parcellizzati i lavori è stato esaltato un individualismo egoista tipico del più estremo liberismo che tuttavia è stato culturalmente legittimato sembra un paradosso ma è così anche dalla riflessione della prassi del 68 la frammentazione delle identità individuali si traduce in impossibilità di costruzione di identità collettive perché ciascuno dei soggetti sociali intercetta solo alcuni dei profili identitari dei singoli e questi diventano soggetti individuali ad appartenenza collettiva multipla e alcune di queste appartenenze sono nemiche della sintesi politica in una molteplicità sociale manichea e polarizzata il dialogo e il compromesso non sono benvenuti e molte associazioni invece di svolgere la loro autentica funzione di intermediazione agevolando il dialogo fra il singolo e il potere politico tendono solo all'affermazione esclusiva dell'interesse di cui di volta in volta si proclamano portatrici di destra di sinistra progressiste regressive associazioni ambientaliste associazioni animaliste associazioni pro-life quello che volete molte hanno questa caratteristica non tutte ma molte hanno questa caratteristica i soggetti di pluralismo insomma per riprendere la notissima e acuta distinzione che Robert Putnam aveva elaborato già molti anni addietro i soggetti di pluralismo si fanno sempre meno bridging e sempre più bonding cioè sempre meno inclusivi non fanno ponti ma sempre più bonding cioè racchiudono dentro uno spazio delimitato sono esclusivi o diremmo noi esclusivi direggeva partner ma noi in italiano diremmo escludenti la soluzione dei problemi della rappresentanza e ho superato in questo momento l'ora ma vi prendo solo un minuto la soluzione dei problemi della rappresentanza eh? non ti riporre il problema eh va bene ma mi avete dato un limite di tempo io sono una personcina a modo e quindi lo rispetto la soluzione dei problemi della rappresentanza attraverso l'artificio di riforme istituzionali più o meno incisive di cui abbiamo parlato prima è dunque puramente illusorio si tratterebbe di meri aggiustamenti sovrastrutturali inadeguati a fronte dei diffusi problemi di struttura che ho cercato prima insomma di descrivere una sintesi veramente estrema non di meno che una questione istituzionale si dia è evidente ed è evidente che non la si può sottovalutare se sin dall'ottocento lo stato moderno si declina nella forma della democrazia rappresentativa attenzione utilizzo malvolentieri ma non si può fare a meno questo sintagma perché è un sintagma scopertamente ossimorico dire democrazia rappresentativa non va bene o è democrazia o rappresentanza ma ormai d'accordo ci siamo capiti che cosa che cos'è e se lo stato appunto sin dall'ottocento si declina così è chiaro che la crisi della rappresentanza non può essere trattata con una crisi qualunque poiché essa necessariamente si intreccia con quella dello stato non di meno la gravità dei problemi e l'ampiezza delle sfide impone di non tentare di risolverla come se fosse autonoma e isolata noi siamo in una particolare geistesgeschichtliche lage su una condizione storico spirituale particolare utilizzo questa formula non per caso perché è una formula anche qui di un saggio di Carl Schmitt di geistesgeschichtliche lage dei soliti del parlamentarismus è proprio un problema di condizione storico spirituale lì stavamo negli anni 20 e quella condizione storico spirituale Schmitt intendeva risolverla aprendo le porte al totalitarismo noi siamo in una situazione molto rischiosa siamo in una condizione storico spirituale rischiosa questa condizione questa in cui ci troviamo non è mai stata sperimentata prima è solo un ripensamento complessivo del rapporto fra stato e società civile e delle stesse relazioni fra gli stati può consentirci di uscirne in avanti e non nella direzione della regressione dei rapporti politico-sociali e dell'impoverimento delle coscienze individuali vi ringrazio per i tre minuti di pazienza supplementare una discussione così ampia così organica e piena di idee ci sono tutti gli elementi per poter aprire una discussione sentiamo chi vuol prendere la parola sia di quelli il processo si prende la parola Ludovica che può venire con la videoregistrazione salve professore non mi sentite? devo prendere non mi sentono loro eccoci grazie mille professore per questa meravigliosa lezione piena di stimoli in particolare il riferimento a Ortega che è un autore che amo molto e che credo insieme ai suoi colleghi spagnoli abbiano proprio come dire toccato grazie a loro sensibilità a tantissimi elementi della crisi del novecento semplicemente io volevo proporle uno spunto di riflessione di cui diciamo si parlava anche all'ultimo congresso di studi dei gueriani a Roma cioè dell'eredità nella riflessione politica contemporanea di una visione della tecnica che è proprio quella edegheriana impositiva eccetera eccetera che però rischia come dire di avvelenare di inficiare troppo la nostra riflessione sul rapporto fra tecnica e politica cioè intendere solo ed esclusivamente la tecnica in quanto caratterizzata da appunto la categoria di imposizione di trasformazione che viene dalla lettura edegheriana forse come dire rileggendo il ruolo della tecnica lo statuto della tecnica oggi può aiutarci liberandola appunto da questo carattere dell'imposizione può anche aiutarci a riflettere sul ruolo che la politica ha e magari anche sull'autonomia che la politica ha sopra di essa questo diciamo è anche una cosa a cui sto riflettendo io attualmente però insomma volevo sapere se nella sua visione ci sia soltanto questa interpretazione della tecnica che chiaramente è contemporanea però magari a volte è proprio questo il vincolo un vincolo teorico alla nostra riflessione sul rapporto stato tecnica politica tecnica grazie mille buonasera professore barizon sono qui buonasera professore volevo chiederle una cosa lei non ha non ha menzionato l'astensionismo elettorale secondo lei come si pone questo fenomeno che si accentua sempre di più negli ultimi anni in tutto il contesto della crisi dello stato e nel contesto della crisi anche della rappresentanza politica grazie buonasera ringrazio anch'io il professor Luciani per molti stimoli anche un po' faticosi da seguire nel senso che volendo apprendere appunti non si ascoltava troppo bene e viceversa la prima domanda vera nel senso una domanda storica sulla prima parte della sua ricostruzione in cui ha ragionato sul rapporto tra stato e partito per come è stato vissuto e contemporaneamente affrontato appunto tra fine ottocento e primo novecento e anche primo dopoguerra credo abbastanzialmente la domanda è su pre-Weimar visto che poi lei ha specificato comunque la prima teorizzazione forte teorizzazione o forse teorizzazione sistematizzata e anche il dibattito che poi arriva in Italia però ha detto solo sprettamente nel secondo dopoguerra ha a che fare con Weimar e la sua costituzione come momento europeo però a me mentre parlavo veniva in mente che quindi la domanda è questa come si penso che le due cose siano compatibili quindi non è un dubbio ma per capire meglio io come si arriva a quello diciamo soprattutto pensando a quanto accade nella Germania Bismarckiana e in Inghilterra che sono appunto due modelli diversi ma che hanno dei contatti dal punto di vista anche della tradizione ma diciamo sì contatti anche dal punto di vista dei sistemi universitari insomma in quell'epoca come come si arriva anche a quel tipo di vissuto della lotta tra governo Bismarckiano e i partiti che inizia in un modo ma affronta le sue crisi e finisce in un altro cito l'esempio che si fa quasi sempre il tipo di legislazione sociale che viene fuori da quel momento storico-politico in Germania in cui se ho capito bene come l'avere costruito lei immagino che Bismarck lo considerasse ancora come un ruolo un compito dello Stato più che del dibattito nel Reichstag tra i partiti che quindi sono ancora una cosa un po' in forza e in Inghilterra invece diciamo il secondo modello più libero-democratico che abbiamo un po' in mente tutti mi chiedevo perché non ne ho idea se ci fosse unnesso anche con l'evoluzione della appunto di rappresentanza alla fine con le leggi di elezione al Parlamento imperiale verso la fine dell'età bismarckiana io non conosco minimamente l'evoluzione interna anche perché l'età bismarckiana è lunga e poi appunto Guglielmo II cambia molte cose in poco tempo la seconda questione ha a che fare invece più con la chiusa e alcune delle questioni che toccava anche che hanno toccato i colleghi che hanno parlato prima di me sostanzialmente è una specie di opposizione che mi è arrivata in testa pensando a come dire dall'illuminismo fino a Huntington noi abbiamo interpretato credo lo banalizzo ma insomma credo di dire una cosa abbastanza vera abbiamo interpretato l'idea del contatto tra culture o sistemi come un veicolo sempre positivo e appunto penso fino a Huntington perché poi Huntington con le ondate di democratizzazione l'ha interpretata così adesso immagino anche dopo Huntington io faccio l'esempio di Huntington perché viene regolarmente demolito diciamo negli ultimi 15 anni come anche visione ingenua esattamente come si considerava in Genua il du commerce dell'illuminismo oggi invece l'idea che i sistemi siano connessi interconnessi che abbiano canali che siano fuori dalla posizione statale o interstatuale per come funziona la vediamo in maniera totalmente diversa come una specie sorta di limite invalicabile volevo una considerazione su questo grazie a tutti poi intanto Micovica Filieri che tra l'altro come progetto questo confronto tra Benjamin e Schmidt giusto? come progetto il confronto tra Benjamin e Schmidt giusto quindi insomma siamo in tempo no e no poi ecco proprio in Benjamin c'è questa immagine del sovrano che tiene in mano l'avvenire come uno scettro cioè proprio l'idea della della progettualità della politica e anche del dramma però della politica perché la politica non si può sottrarre alla decisione insomma vabbè comunque questo non c'entra niente sulla domanda sulla questione della tecnica no io non ho una visione spero di non avere una visione unilaterale anche perché penso che diciamo la distinzione tra naturalità e artificialità sia problematica cioè che la dimensione artificiale paradossalmente faccia parte della natura dell'uomo epimeteo distribuzione dei beni a tutti gli esseri umani e destino dell'uomo al quale non sono stati distribuiti alcuni beni naturali che invece sono stati distribuiti agli animali destino di far ricorso all'arte per sopravvivere per noi non abbiamo squame non abbiamo per difenderci quando nuotiamo non abbiamo pelli non siamo villosi insomma così tanto villosi da poterci difendere dal freddo non abbiamo ali per volare e sfuggire ai predatori insomma non abbiamo zanne per mordere i nostri aggressori noi dobbiamo fare riferimento siamo artifices necessariamente diciamo paradossalmente fa parte della nostra natura insomma a un certo punto di vista cioè non possiamo farne a meno allora se è così e allora la la tecnica è cessa in qualche modo di essere un un elemento diciamo che grava su di noi dall'esterno perché ci viene come il nostro patrimonio naturale insomma io la leggo in questi termini che cosa però cambia adesso rispetto e perché nasce con la contemporaneità questa visione della della tecnica adesso mi pare ritengo che nasca da questo per l'accumulo di conoscenze tecniche che rende sostanzialmente non più dominabile questo questo patrimonio la difficoltà della politica nel dominare la tecnica sta sta in questo ma allora ci sono due difficoltà per un costituzionista la prima difficoltà è che non mi piacerebbe che la tecnica fosse dominata dalla politica se questo equivalesse a riduzione della libertà della scienza la libertà dell'arte e della scienza è garantita dalla nostra costituzione e dalle costituzioni democratiche in tutto il mondo ed è evidente dunque che a parte casi del tutto marginali è molto difficile che noi usciamo e poi perché l'intreccio tra scoperte scientifiche ormai rende veramente improponibile qualunque tentativo di regolazione pensate all'intreccio tra manipolazione del genoma umano e intelligenza artificiale queste sono due cose che messe separatamente forse potrebbero anche essere regolate ma messe insieme non si riesce più a capire come si possono regolare perché sono talmente tanti elementi da tenere presenti che non si riesce però se sotto la sua domanda c'era l'idea diciamo di una visione apocalittica della tecnica cioè se se noi dobbiamo partire necessariamente da una visione apocalittica della tecnica la risposta è no per ragioni proprio originarie la risposta è no però rispondere no non significa non rendersi conto dei rischi enormi che stiamo correndo adesso perché ripeto è la prima volta in cui noi avvertiamo perché tenete presente nell'ottocento non è che negli anni del positivismo non nei decenni del positivismo fossero tutti quanti convinti che si andasse verso un mondo migliore c'erano anche voci critiche ovviamente ma quelle voci critiche non avevano a che fare con i rischi che corriamo adesso che sono messi in discussione proprio della stessa identità antropologica quindi questo a me sembra il punto però non c'è dietro la mia posizione una visione apocalittica della tecnica Barison mi ha chiesto ma in realtà l'estezionismo elettorale ho fatto cenno perché ho detto che il turn out elettorale è in calo ma forse sì certo forse sono stato troppo veloce allora partiamo dalla premessa che ho fatto non so se siete d'accordo perché se non siete d'accordo allora bisogna stare alle ragioni del disaccordo per me la crisi della rappresentanza sta nella crisi del rappresentato è anche crisi del rappresentante è crisi della qualità del rappresentante ma il vero problema è la crisi del rappresentato perché non vorrei ma lo dico anche lo dico anche espressamente ma non mi capita di essere fare qualche audizione parlamentare glielo dico io non vorrei stare nei vostri piani a quelli che stanno là in Parlamento perché loro non sanno chi rappresenta loro non sanno chi rappresenta molti di loro saranno anche di qualità diciamo opinabile non c'è più la qualità di una volta ma non è solo questo il problema perché anche i giganti di un tempo anche i giganti dell'Italia dell'immediato secondo dopo guerra anche quelli avrebbero difficoltà se ossero miracolosamente paracautati oggi nella realtà politica e sociale dell'Italia contemporanea perché non saprebbero chi stanno rappresentando proprio a causa di questi fenomeni di difficile costruzione dell'identità l'identità si costruisce mica perché semplicemente uno sta chiuso in una stanza e legge un libro o legge mille libri o legge un milione di libri si costruisce nei rapporti sociali Michele ha il microfono aperto ah ecco no 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 va bene ti invitavo a non dire niente di compromettente era solo per questo è un fuori onda compromettente che poi finisce su youtube però c'è questo ecco appunto c'è questo elemento c'è questo elemento che va tenuto presente è chiaro che soggetti che rappresentati cioè potenziali rappresentati che hanno identità deboli non partecipano volentieri alla competizione elettorale cioè non esercitano volentieri il diritto di voto c'è due ragioni per le quali non si esercita volentieri il diritto di voto uno è la qualità dell'offerta politica vero? perché l'offerta quanto più l'offerta politica è insoddisfacente tantomeno ho voglia di andare al mercato della politica a comprare qualcosa giusto? ecco la seconda ragione però è la qualità della domanda politica perché adesso c'è un problema di non solo di difficoltà della trasmissione della domanda politica ma di difficoltà di costruzione della domanda politica perché la domanda politica si costruisce grazie all'identità ma in un mondo disintermediato largamente disintermediato in cui le identità semmai sono veramente parcellizzate perché se io qui per dieci volte faccio una ricerca visto che siamo a Napoli sui risultati del Napoli Calcio e sono sicuro che mi arriveranno segnalazioni sul condizioni fisiche come si chiama di osimen per dirne uno è sicuro questo mi arriveranno e più mi arrivano queste segnalazioni e poi io sono portato a interessarmi a Napoli Calcio e resterò chiuso in quella bolla questi sono fenomeni molto conosciuti la costruzione dell'identità molto facile che abbiamo avuto noi della mia generazione è stata una fortuna noi non abbiamo avuto difficoltà a costruire la nostra identità molto più difficile per voi perché non vi trovate in un ambiente ospitale e voi però siete dei privilegiati ovviamente perché avete strumenti culturali molto forti per potervela costruire pensate invece a quello che Capograssi si chiamava l'individuo comune anonimo statistico e questi strumenti non ce l'ha e quindi quel costui ha una crisi identitaria che si riflette poi nella difficoltà di elaborare una domanda politica quindi la difficoltà dico appunto a Barisonna la partecipazione è in calo per un problema di offerta politica e per un problema di domanda politica massimo si può dire quindi sinteticamente il problema vero certo e di questo tipo è tutto culturalmente e che anche l'assenzione dipende da questo perché naturalmente anche i persone non sanno che cosa da mandare o per lo meno penso che domandando le cose queste comunque non vengono soddisfatte è largamente così e poi se vogliamo approfondire questo discorso minimamente tenete presente che l'estremizzazione della competizione che ha avuto come dire grandi sostenitori cioè l'idea del bipolarismo del bipartitismo cioè della scelta A B senza sfumature questa 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 ideologia che io non ho mai condiviso insomma ecco allontana allontana ecco immaginiamo di essere elettori statunitensi adesso dobbiamo votare probabilmente o probabilmente o per Biden o per Trump io non no non voglio diciamo degnissime persone non mi chiedo però ecco i presenti in questa sala che cosa farebbero cosa farebbero sarebbero sicuri o andrebbero a cuor leggero o volentieri a votare oltretutto dovendosi scrivere lì perché tra l'altro non dovete scrivere le liste elettorali quale sarebbero quindi anche c'è anche questo elemento c'è l'elemento della polarizzazione del confronto politico che impedendo che si maturi la scala dei grigi ci costringe al bianco o al nero e non sempre ci riconosciamo l'uno o nell'altro poi ammesso che siano bianco e nero perché questa contrapposizione questa metafora cromatica presupporrebbe una vera alternativa ideologica che c'è e non c'è insomma dipende quindi l'assenzionismo elettorale non si combatte con la pedagogia cioè andando a dire alle persone guarda che l'articolo 48 della costituzione ti dice che il voto è un dovere civico non si combatte così ci abbiamo messo anche del nostro perché lì è stata abrogata anche quel abrogato quella certo di legislazione che consentiva un minimo di sanzionare e la violazione del dovere di voto la menzione ma insomma niente sciocchezze però fa parte fa parte di un certo come dire di un certo scusate se insomma avete però se è colpa vostra fa parte di una certa disattenzione dell'elite politiche che non considerano la dura legge di Wilhelm Wundt dell'eterogenesi dei fini insomma cioè è questo il punto per esempio l'eliminazione del servizio militare obbligatorio è stata presentata come una grande battaglia di libertà a parte il fatto che aveva soprattutto una motivazione economica perché costava troppo mantenere in piedi tutte quelle caserne ma a parte questo e siamo certi che sia stata una soluzione corretta io ho dei dubbi perché si sarebbe potuto tranquillamente esigere dai cittadini cui la comunità politica tanto ha dato dall'istruzione alla salute un minimo del loro tempo non tanto per far finta di fare i soldati se vi dico qual è stato il mio addestramento militare sono peraltro vivo per miracolo perché a tirar le bombe a mano venivano chiamate persone assolutamente inadeguate anche aprire una bottiglia di Coca Cola perché tiravano via la spoletta e poi si giravano dal sergente e dicono adesso che faccio con questa bomba attivata in mano e tu stavi lì vicino e insomma ecco quindi per carità di Dio adesso a parte lo scherzo è chiaro si poteva immaginare altro si poteva immaginare un ricompattamento della comunità politica attraverso andare mandare il Trentino a Palermo e il palermitano Nersano insomma chi l'ha fatto io l'ho fatto il servizio militare lo so l'ho toccato con mano che aveva che aveva un significato non vogliamo il servizio militare facciamolo civile tre mesi magari bastano per poter capire aprirsi ad altre realtà perché ripeto la costruzione dell'identità e delle comunità si fa attraverso l'esperienza di vita non si fa chiudendosi in un studio a legger libio peggio ancora a chattare su su un computer questo e quindi il turn out elettorale è quello che è continuerà a decrescere se non si risolverà il problema strutturale alla base perché giustamente come dici tu la questione è culturale Contel dunque Germania Bismarckiana Inghilterra è una domanda molto interessante l'idea l'idea della legislazione sociale bismarckiana sono state scritte intere biblioteche su questo allora io la dico molto semplificando dico quella che è la mia opinione personale la mia opinione personale è che siano sbagliate le letture estremistiche diciamo entrambe le letture estremistiche di quella politica sociale bismarckiana e cioè che sotto ci siano due spinte una spinta è quella alla neutralizzazione del rischio socialista diciamo una spinta alla neutralizzazione della pressione delle masse e questa diciamo è una è la visione come dire real politica e poi c'è una visione più ideale ma secondo me c'è anche questo elemento e cioè l'idea che lo Stato pur si hanno dovesse qualcosa ai suoi cittadini l'ho accennato precedentemente è nella logica stessa dello Stato lo Stato eroga prestazione di sicurezza chi era che studia Spinoza è sempre lei è sempre lei che studia Spinoza e Hobbes insomma lì abbiamo nella grande dottrina del Seicento ci fa capire lo Stato moderno nasce con questa nasce per questo nasce con questa idea di assicurare una prestazione di vita e allora è logico appunto che questa prestazione di vita poi diventi anche prestazione di buona vita quindi era l'idea di uno Stato che avesse una pluralità di compiti che trascendeva la sola sicurezza la sola sicurezza l'idea insomma del resto l'idea del poliziai non è l'idea non è di Bismarck è un'idea precedente e lo Stato di polizia non è lo Stato della pubblica sicurezza ovviamente lo Stato di polizia è lo Stato che assicura l'ordinato svolgersi dei rapporti sociali anche erogando prestazioni che sono prestazioni di benessere diremmo noi adesso è chiaro che in Inghilterra le cose vanno totalmente in modo totalmente diverso ma per una ragione molto semplice perché in Inghilterra i partiti ci sono e in Germania sono lo Stato larvale sostanzialmente e quindi le cose sono totalmente imparagonabili insomma in Germania si tratta ancora di risolvere il problema del braccio di ferro tra il re tra il monarca e il suo governo e da una parte e il Parlamento dall'altra tutta la grande discussione della dottrina tedesca dell'Ottocento in realtà tra la fine dell'Ottocento e addirittura i primi del Novecento sulla legge di bilancio come legge meramente formale o legge sostanziale è tutta orientata in quella direzione cioè a costruire un Parlamento che sia in qualche misura indipendente dal sovrano ma è tutto molto difficile proprio perché i partiti non ci stanno ancora non sono ancora partiti diciamo radicati Huntington contatto positivo fra culture e sistemi limite invalicabile allora di limite invalicabile nella storia non ce n'è nemmeno uno nel senso che poi dipende da come la storia si evolve tutto ciò che sembra che sembra fermo e indiscutibile oggi potrebbero esserlo domani lo stesso Fukuyama scrive la fine della storia dopo pochi anni si pente e scrive un libro anzi più di un libro totalmente diverso era era una parese posso dirlo sciocchezza quella certo la storia non finisce e fatalmente quindi quello che sembra un limite invalicabile o una condizione invalicabile non necessariamente c'è sul rapporto tra culture e sistemi all'intreccio tra sistemi è chiaro che in una società complessa in un mondo che è diventato più piccolo questo sì lo vedo vedo difficile immaginare un passo indietro proprio perché il mondo è più piccolo si è fatto più piccolo e si sta proiettando verso il futuro proprio l'altro giorno abbiamo fatto una discussione per gli studenti delle scuole medie sul diritto dell'esplorazione dello spazio extraterrestre pensate che già nel 62 era stato fatto un trattato su questo pensate che già oggi ci si chiede come regolare lo sfruttamento delle risorse minerarie della luna o di Marte e via discorrendo ci siamo non siamo lontani da questo e quindi l'idea che il rapporto tra le culture e i sistemi sia di alterità in una realtà geopolitica di questo tipo mi sembra complicato però non me la sentirei quello che è certo è che prima abbiamo ricordato Ortega è che se stiamo a un altro autore che forse è stato anche molto più demonizzato perché Ortega c'è tanti nemici insomma è ancora più demonizzato di Ortega cioè Spengla e Spengla coglie un elemento un elemento importante l'idea del passaggio dalla cultura alla civilizzazione è un'idea molto molto seria la cultura si forma sulla base di vincoli sociali molto forti di identità sociali molto forti e non è detto che questo noi siamo in grado di farlo quando questi contatti tra culture e sistemi non sono governati e sono soltanto abbandonati a se stessi o alla logica dell'interesse economico non è il contatto tra culture e sistemi che è il problema ma il modo in cui lo si concepisce se è governato o non è governato quello non governato secondo me pone dei rischi ma non c'è nessuno che ha voglia di governarlo questo contatto è anche governato è governato dobbiamo prenderti conto che sono dei fenomeni che sono ingovernati perché poi come li governi con le leggi non i singoli stati mai singoli stati mai singoli stati quindi occorrebbe diciamo un super stato no se non un governo mondiale almeno un governo governi continentali che poi sono degli accordi stati loro io penso all'uso del diritto internazionale non credo proprio non credo proprio alla costituzione della terra insomma di Luigi Ferraioli non ci credo una volta fatte queste norme fattizie o a seconda dei casi e chi è che usa un lavoratore di detenzione me gli stati quando vogliono per questo insisto la crisi dello Stato non è morte dello Stato no 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 c'è gli stati gli stati si nascondono dietro dietro diciamo l'impossibilità di decidere perché gli è comodo quante volte noi ascoltiamo l'Italia lo vuole l'Europa anche falsamente per parlare di cose a voi note il 3 più 2 il 3 più 2 è stato introdotto sulla base dell'idea che fosse una normativa europea che lo imponeva mentre invece non era vero era puramente semplicemente falso era l'incontro di Bologna che era un incontro dove aveva partecipato semplicemente alcuni anche alcuni burocrati non lo voleva l'Europa insomma è molto comodo dire lo vuole l'Europa o lo vuole lo vogliono gli equilibri internazionali non so se ci sono altre inquisitive ecco Clarissia Giulia Clarissia grazie grazie mille professore per la lezione e per il dibattito io ho un pensiero confuso in realtà però volevo provare a condividerlo lo stesso ed è un pensiero che parte dai principi la mia formazione giuridica è veramente veramente scarsa però mi ricordo che quando ho seguito il corso di diritto internazionale ero rimasta colpita la prima lezione era sui principi che sono sopra ogni altra cosa i principi proprio generali del diritto e anche lei faceva riferimento a questo quando parlava del momento delle guerre in Europa che i principi sono stati quello che sono stati diciamo la forza che ha più o meno tenuto insieme il continente poi se vogliamo la mia domanda è di fronte a questo momento di crisi molteplici e interconnesse che ruolo hanno i principi o l'assenza di principi sufficienti a rispondere alle crisi attuali dovremmo forse ritornare ai principi e adeguarli alle sfide e se sì come si faccia come nascono i principi nascono da potenze internazionali che conducono e quindi la crisi dei principi si lega a una crisi del sistema internazionale o nascono da traumi molto forti come ad esempio penso le guerre mondiali e quindi dobbiamo toccare il fondo per poter arrivare a un rinnovamento una riflessione su questo grazie io adesso semplicemente visto che si è anche molto parlato di Schmidt volevo sapere a proposito appunto del tema della crisi cosa pensa lei del rapporto tanto studiato attualmente fra Carl Schmidt e il terrorismo contemporaneo cioè ci sono molti autori uno fra cui è Jean-Claude Monod che insegna la normale di Parigi da cui ho studiato adesso di recente che appunto sta affrontando il tema riemergente del terrorismo come protagonista della crisi degli stati della crisi geopolitica contemporanea in rapporto a Schmidt come anticipatore di questi grandi di questo fenomeno non so se lei che idea ha rispetto a questo se pensa che sia anche per lei il nuovo nemico contemporaneo degli stati della crisi degli stati siano proprio i terroristi nella loro deterritorializzazione come appunto anche Schmidt aveva anticipato ho preso un treno tardi ma insomma non tanto non così tanto dunque Giulia Clarizia ma allora anzitutto bisogna capire di che principi stiamo parlando se stiamo parlando dei principi del diritto internazionale o dei principi del diritto interno perché c'è un problema che riguarda sia i principi del diritto internazionale che i principi del diritto interno ora le costituzioni non si fanno a freddo non si fanno con le commissioni no? insomma io feci parte delle commissioni cosiddetti saggi cose ma per carità di Dio insomma si uno fa volentieri una cosa ma insomma non si fanno grandi riforme costituzionali non le fanno le commissioni saggi e così è per i principi sono il frutto o di una decisione politica in una fase di rottura eh? quella che appunto ieri conoscerà bene insomma la 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 rottura il passaggio attraverso delle costituzioni rompo la costituzione ne faccio un'altra e e con questa altra costituzione arrivano altri principi i principi del diritto internazionale sono diversi perché non essendoci il monopolio dell'uso legittimo della forza e che si è costruito soltanto faticosamente e anche poi realisticamente perché in teoria oggi il monopolio dell'uso legittimo della forza c'erano le Nazioni Unite che possono delegare poi i singoli stati ma non sappiamo che questo non si riesce ad averlo i principi del diritto internazionale sono nati sulla base di una complessa evoluzione che ha portato alla costruzione di un diritto internazionale generale al quale si è unito un diritto internazionale partizio il diritto internazionale generale è il diritto che vale sempre per tutti comunque i componenti della comunità internazionale che poi secondo molti non sono più soltanto gli stati e il diritto internazionale partizio è il diritto dell'accordo tra gli stati ora questi questi principi non è che possiamo dire li cambiamo proprio perché è il diritto consuetudinario e come il diritto consuetudinario non si cambia per decreto e quindi cambiano cambieranno chi lo sa se cambieranno e il tentativo di farli cambiare di spacciare per diritto consuetudinario ciò che invece non lo è per esempio si è posto proprio per le guerre umanitarie cioè si è detto ormai da alcuni che le guerre umanitarie sarebbero diventate diritto internazionale consuetudinario lo nego francamente non mi sembra corretto e così come ritengo inaccettabile la teoria la dottrina anzi la chiamerei della guerra giusta cioè la riesumazione contemporanea della dottrina della guerra giusta che secondo me non ha il minimo fondamento e che poi è pericolosissima e poi qualcuno mi deve spiegare come si possa oggi teorizzare la guerra giusta quando esiste la possibilità che la guerra determini l'annientamento dell'intero genere umano è qualcosa che non ho compreso né in Walser né nei suoi epigri quindi i principi si evolvono da soli non abbiamo non abbiamo lo strumento mentre quello che dicevo prima adesso è lo strumento che abbiamo è un utilizzo più consapevole del diritto internazionale pattizio cioè l'idea che gli stati finalmente si siedano attorno ad un tavolo di fronte a questi mega threats questa polycrisis e si rendano conto che non si può più attendere questo è il punto attenzione non mettendo da parte i loro interessi perché questo è l'equivoco non mettendo da parte i loro interessi ma facendoli valere cioè è questo è quello che è sempre stato come nel parlamentarismo non è che nel parlamentarismo si vada alla ricerca del bene comune ma il bene comune nasce attraverso le divisioni i confronti ma il dialogo questa è l'idea che una classe dirigente una pluralità di classi dirigenti internazionali dovrebbe dovrebbe praticare e quindi appunto non nascono per la volontà di singole potenze non nascono secondo traumi non si applica ai principi del diritto internazionale il meccanismo che si applica per le costituzioni Filieri mi chiede il rapporto Schmitt terrorismo e via discorrendo è un tema che non del quale non 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 mi sono occupato e non questa riflessione non la conosco ma prendiamo lo Schmitt della teoria del partigiano per esempio o prendiamo lo Schmitt del nomos della terra quando parla del pirata della figura del pirata come nemico del genere umano hostis umani generis allora l'elemento cioè il nemico deterritorializzato è sempre stato un nemico diverso da quello territoriale proprio perché non ha iustus hostis perché non ha la legittimazione e la legittimazione è dove è la legittimazione nell'ambito lo ius publicum europeum nel momento in cui lo ius publicum europeum a farsi benedire allora ci si può chiedere se costoro non abbiano per avventura una loro una loro riacquisita legittimazione e ora il rischio del terrorismo internazionale io non non lo sottovaluto mancherebbe altro che lo sottovalutasse un italiano cioè non sottovaluterei quello che è accaduto alla fine degli anni settanta no? quando il paese è stato gettato da una parte e non dall'altra per la scelta di personaggi diciamo che non voglio qualificare non voglio qualificare cioè il sequestro moro ha cambiato il paese ha cambiato il paese quindi figurarsi se uno un italiano può sottovalutare il terrorismo sono appena stato a Brescia per un convegno tutta a Brescia tappezzata dai ricordi delle vittime del terrorismo nero e rosso tutte queste eh? piazza della loggia ma no ma non è solo piazza della loggia perché poi ci sono i ricordi dell'Italicus piazza Fontana è insanguinato questo paese ecco quindi non sottovalutiamo l'importanza del terrorismo per come strumento di dissoluzione di equilibri sociali e politici penso che stati che hanno a loro disposizione risorse tecnologiche così forti potrebbero contrastare il terrorismo efficacemente e e e quindi non ecco non lo vedo come come il rischio insomma lo metterei tra i 35 fattori di rischio che hanno elencato anzi mi pare che ci fosse terrorismo internazionale però non lo metterei ecco se dovessero intervistato o meno non lo avrei messo tra i 35 posti però lo metterei tra i 35 grandi rischi quello che posso dire è che è chiaro che quanto più è in crisi la logica dello just publicum europeum tanto meno facile è il contrasto al terrorismo probabilmente anche lei sarà un po' nostalgica visto che studia Schmidt insomma del tenitore dell'ordine dello just publicum europeum perché just publicum europeum aveva tanti vantaggi ed è inutile adesso stare a dire che lo just publicum europeum era il diritto il diritto l'ordine diciamo funzionale agli interessi delle potenze coloniali europee perché non è non è così perché prescindeva ce lo era ma non origina per questo prescindeva dagli interessi coloniali era un problema di regolazione di rapporti tra potenza e quindi tutto quello che fuoriesce da quello schema è oggettivamente pericoloso perché non è risolvibile secondo quelle regole che erano le regole dell'identificazione degli just to sostis e della disciplina dello just ad bellum e dello just in bellum mentre invece adesso noi siamo interessati soprattutto lo just post bellum ma questa è un'elaborazione soprattutto della dottrina della teoria politica statunitense che evidentemente diciamo ha una particolare predilezione per questa per questa parte della della riflessione della riflessione teorica della pratica politica non so se si no io ho credo invece che sia la mia top five di problemi credo che la loro incontraste al terrorismo nella crisi geopolitica globale riguardo il portico dell'occidente in quei sensativi spesso tragici di affrontarlo i fenomeni dei prodotti a come c'è più in Francia e più in America e come si prospetta continua a succedere da uno dei problemi a cui ogni Stato secondo me è più di che fa avventi sì sì ma io credo molto nell'intelligence invece ci credo molto nell'intelligence nell'intelligence fedele non nell'intelligence infedele quella fedele ci credo molto sì sì ma perché le tante io era più una le questione di lo studio della possibilità di questo fenomeno in relazione all'incorso che si faceva sì sì ho capito insomma rientra rientra nella nei fattori di crisi della statualità questo questo sì questo non c'è dubbio è uno dei fattori uno dei tanti fattori di crisi della statualità Mario sì ma che abbiamo fatto questo tuo questo tuo levarsi è come è come un fine messa sì no perché mi sembra che siamo arrivati a un buon punto siamo arrivati a chiudere 19 qualcosa no 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 spazio per un'altra domanda ce l'abbiamo un'altra domanda e risposta 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 non 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 ho scritto ho detto non hai dovuto scrivere ne è venuto l'ho fatto prego contento domanda complicata ma quando gli stati sono hanno delle forme apparenti che li portano contraddistribili dei miei attori che portano dialogare tra di loro nel rispetto alla questione in questione come agire il direttore internazionale quando gli stati vuolono solicitare da certi punti possono a parte gli stati sono ormai appunto indivisi nel senso che diceva che non che sono scena ma obbediscono all'ordine politica con il diverso come siamo come in genere con il 3 4 è diverso che passare dal concetto di potenza a la di patrice a tutta le azioni e poi la l'ordine è esattamente questa è la sfida infatti si aggancia alla prima questione che aveva posto il problema però non è il clash of cultures non è questo il punto il punto è cercare di mettere sul campo i propri interessi io credo molto a questo ho sempre pensato che il parlamentarismo fosse positivo non perché consentiva di esercitare spazi di libertà ma perché consentiva di mettere sul campo gli interessi è un ragionamento real politico e allora anche in questo caso secondo me è possibile è possibile poi dopo questi interessi competeranno tra di loro ma intanto potrebbero trovare un punto di equilibrio su ciò che va male a tutti quanti perché ci sono delle cose che vanno male a tutti il terrorismo per esempio non è una di queste perché c'è qualcuno d'accordo però lì è un problema di maggioranza e minoranza e allora se recuperiamo anche in sede internazionale l'idea di maggioranza e minoranza forse qualche soluzione la possiamo trovare però certo è chiaro ma è così ma infatti noi non sappiamo se arriveremo a domani se arriveremo a domani allora voi siete troppo piccoli ma io la crisi dei missili a Cuba me la ricordo perché la raccontavo adesso in un'altra occasione pubblica insomma ma io mi ricordo distintamente che ero piccolino e mi chiedevo se sarei arrivato a giù ero un bambino però avevo questo dubbio perché si sentiva viva l'idea che la bomba le bombe potevano scoppiare da un momento all'altro e noi non ce la saremmo cavata va bene e ce l'avevo questa idea e adesso per la prima volta ce l'ho un'altra volta e forse ho sbagliato non averla anche prima perché abbiamo scoperto che ci sono stati tanti casi in cui siamo stati sull'orlo ma comunque adesso ce l'ho ancora di più è chiaro che però se partiamo da questo non campiamo più allora dobbiamo avere quell'ottimismo della volontà che ci consente di dire vediamo che cosa possiamo fare e io non vedo altra soluzione perché il governo mondiale non è alle porte non lo vorrei nemmeno la costituzione della terra senza poteri che la sorreggano mi dispiace per Luigi Ferraioli non sta in piedi e non si costruisce proprio perché mancano quelle condizioni di fondo d'accordo e quindi l'unica cosa è ritornare a un'utilizzazione dell'attività pattizia degli stati pur consapevole della crisi dell'oglio spubblico ma europeo ma non è che possiamo fare molto di più perché l'altra cosa che possiamo fare è acquistare un rifugio anti-atomico chiuderci lì dentro rompere i contatti con la realtà e fare finta che la vita sia quella e che meriti di essere vissuta mentre invece magari non è detto che meriti di essere vissuta tanto meglio a quel punto sparire dalla faccia della terra no? questo è il punto ma non non ci sono ricette non c'è però nemmeno il principio di isperazione di Anders se cediamo al principio di isperazione allora cediamo le nostre armi intellettuali mentre invece penso che dobbiamo cercare di trovare la soluzione va bene? bene grazie auguri per i vostri studi ovviamente se volete se volete continuare questo dialogo io non ho difficoltà mi scrivete pur essendo inquiescenza ho mantenuto la mia mail istituzionale quindi la solita dei professori della sapienza massimo.luciane chioccio uniroma1.it e e poi appunto siccome ho scritto un po' di cose sullo stato di eccezione sulla guerra e via discorrendo sono temi di cui abbiamo discusso oggi e ne possiamo parlare buona serata a tutti il carattere del minerale è importante perché poi